E dopo aver visto tutta la line-up di AOC per quanto riguarda i 21.9, chiudiamo con il top di gamma, l'AOC AG352 UCG, il 21.9 per eccellenza, con risoluzione quad HD estesa. Ed eccoci dunque al monitor 21.9 più sofisticato che abbiamo visto sul canale, un prodotto promosso ve lo anticipo, un quad HD esteso come detto, 3440x1440 pixel e un prodotto ultra consigliato. Perché? Perché costa meno. Molto semplicemente rispetto alle altre due soluzioni principali che abbiamo sul mercato, quella di Asus e di Acer, quello AOC costa meno. A quanto ho potuto vedere utilizza un pannello similare se non proprio lo stesso, un MWA che come sappiamo è la via di mezzo tra un IPS, quello che uso normalmente e l'LCD, permette di mantenere alte le prestazioni gaming, quindi 100Hz di frequenza e un'ottima resa dei colori. Normalmente quando passo da un IPS a un pannello differente noto comunque qualche piccola differenza, l'MW ha di meno e l'LCD si vede in modo molto consistente. Con questo monitor non è successo, quindi alta qualità del pannello, riproduzione dei colori ottima. I 100Hz di frequenza, c'è poco da dire, ottimi per il gaming, una sensazione di immersione soprattutto grazie al form factor di questo monitor. E la mia review non va tanto sul gaming, come sapete, ma va anche su gestione del flusso di lavoro, quindi sulla produttività. L'esempio che abbiamo alle mie spalle sono due finestre, una di Amazon e una di YouTube, ma per farvi vedere che posso utilizzarle in modo indipendente senza avere distorsioni o finestre che possono essere un pochettino squadrate, per così dire. Quindi che si tratti magari di un software di scrittura da una parte, un software di montaggio dall'altra, fotomontaggio Photoshop per esempio, io riuscirò a lavorare in modo indipendente su entrambe le schermate perché ho abbastanza spazio in termini di pixel e in termini di diagonale. Questo è importante per ottimizzare il proprio flusso di lavoro. Ad ogni modo, tenete presente che utilizzandola a tutto schermo, magari su Premiere con il solito esempio, ho talmente tanto spazio a disposizione che una timeline di 7 minuti la vediamo. Una parte dei 13 a disposizione posso ingrandirla, ma già così posso andare a selezionare con cura un qualsiasi momento del mio video. Ho un'anteprima abbastanza grande che mi permette di gestire al meglio il lavoro che sto facendo e anche tutti i vari strumenti che ho a disposizione, i pannelli per riportare i file, delle giuste dimensioni. Quindi nessun tipo di problema è l'ottimizzazione del proprio flusso di lavoro. Questo ci permette di lavorare, riuscire a ottenere lo stesso risultato in meno tempo e quindi produrre di più. Quello che piace a me comunque per gestire bene, quello che bisogna fare è lavorare, ottimizzare il tempo che si sta al computer. Al di là di questo, chi utilizza il PC per lavoro ovviamente sta molto tempo davanti e anche in questo caso AOC ha inserito le feature, le caratteristiche che propongono a chi utilizza tanto il computer di non affaticare troppo gli occhi. Quindi abbiamo il filtro della luce blu e un pannello completo dal punto di vista della personalizzazione dei parametri. C'è anche la chicca in più della possibilità di regolazione del LED, del monitor che in serata magari restituisce un tocco estetico aggiuntivo che non fa mai male. Presente anche il gancetto per le cuffie che è un'aggiunta che come sapete mi piace tanto e quindi tante chicche aggiuntive lo rendono molto più vendibile al di là del prezzo rispetto alle alternative degli altri produttori. Se state dando un'occhiata a questa recensione ovviamente state valutando l'acquisto di un monitor di questo tipo. Ovviamente possiamo discuterne come sempre nei commenti ma con i link in descrizione potete fare un paragone e comprovare appunto quello che vi ho appena detto riguardo il costo. Chi ha bisogno di un prodotto del genere anche per giocare ovviamente avrà a disposizione una scheda grafica di un certo livello. Tenete presente che se state costruendo adesso un computer e nel periodo attuale con i costi che sono un pochettino lievitati quindi il risparmio che ho comprando questo anziché uno degli altri mi permette di prendere una scheda grafica anziché un'altra magari fare un passaggio di fascia che in termini di longevità del prodotto poi della scheda grafica è consistente quindi ottimizzare la spesa che vado a fare. Come sempre possiamo discuterne giù nei commenti se avete delle domande se avete qualche dubbio riguardo l'acquisto potete tranquillamente iscrivervi sia riguardo a questo monitor che i monitor appunto in generale qualche schermo per il vostro pc. Io vi esorto come sempre a lasciare un like, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ringrazio per aver seguito questa recensione e noi ci vediamo quindi ad un prossimo video.